Amici, quest'anno è il primo anno che a causa di un impegno che ho preso tanti punti fa che non potete scordicutare, non solo, ma anche alla festa finale. Mi spiace moltissimo per tutto questo video, se vi ho accontrato il video, vi faccio stesso. Volevo ringraziare Angelo Palmas, tutto il suo team, la ragazza della segreteria, voglio ringraziare Roberto Cicnelli, tutti i miei colleghi, i miei amici con cui io ci fratichiamo tutto l'anno, con un'altra invece ci si vede qui, quindi è una grande festa rincontrarci all'agosto, questi segnali che ringrazio noi ragazzi, tutti quanti, perché è chiaro che si è detto la forza dell'energia, c'è l'energia che ci dà per migliorare sempre, per cambiare i consigli, per cambiare i ciechi, perché secondo me è bello di credere nella didattica, è di potersi rinnovare costantemente grazie all'energia e agli stimoli che ci date voi oggi. Per cui io vi abbraccio tutti, vi voglio vedere qui l'anno prossimo ancora più carichi e finisco qui un messaggio. Un bacione a tutti, ciao.